E l'oltrepo del vino apre le sue porte, virtuali per ora, al Giappone e lo fa forse nell'unico modo possibile, ovvero online, nei tempi del virus che è allungato a dismisura la distanza fisica fra il territorio e l'estero, ma ridotto, d'altra parte, forse ancora di più quella virtuale. Nasce così la versione giapponese del sito del Consorzio dei Vini, che più che una traduzione letterale dei contenuti e una vetrina per un mercato di sicuro interesse per il settore, rappresenta lo spirito nuovo di questo territorio, a cui forse la crisi interna dell'ultimo decennio, a cui si è aggiunta quella provocata dalla pandemia negli ultimi mesi, sono riuscite dove decenni di politiche assistenzialistiche hanno fallito, ovvero innescare una reale collaborazione fra gli attori della filiera. La presentazione della versione giapponese del sito si è svolta con una conferenza online ed è stata seguita da una settantina di visitatori, fra aziende agricole addetti ai lavori e giornalisti, fra cui anche referenti provenienti dal paese del sollevante. Il rispetto per la tradizione contadina dell'oltrepo e l'attenzione alla sostenibilità delle produzioni di questo mercato è stata anche sottolineata da tutte le imprese che hanno rapporti commerciali con lo Stato orientale, anche se la tradizione di scambio culturale in campo enogastronomico fra oltrepo e Giappone, da queste parti in verità non è affatto nuova, come testimoni a Piera Selvatico, fra le cuoche storiche della zona che per molti anni ha ospitato e insegnato i suoi segreti a decine di studenti giapponesi. Alcune è stata una mostra di un ricermanente che c'è un'epoca di chuyrovato Rituale, che ha già avuto un'epoca diostativo l'envoluzione a proposito che è ancora incontro, e vissere una delle fontanze est limitabili. Alcune è stata una conferenza di un'epoca di un'epoca del disegno, e ora è stata un'epoca di un'epoca di schermi, qui ha avuto un'epoca di un'epoca di김Kara oltrepo e cassa. Questa è un'epoca di un'epoca di un'epoca di una scena,